cosa dice l'articolo 4 della costituzione italiana l'articolo 4 fa parte dei 12 principi fondamentali della nostra carta costituzionale che entra in vigore il primo gennaio 1948 ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività che possa contribuire al benessere collettivo di tutta la società tutti i cittadini hanno diritto al lavoro il lavoro rappresenta un diritto dovere ciao al prossimo video vi aspetto ciao